Gentili telespettatori, buona giornata. Se vi eravate chiesti ma che fine aveva fatto Nicolaus Zingaretti, è tornato. A volte ritornano, non aprite quella sede. E sentite cosa è venuto a dire il simpatico Nicola Zingaretti, l'uomo che ride, dice anche con me il PD era il primo partito. E proprio dice così, anche con me il PD era il primo partito. Il sondaggio ipso secondo cui i dem sarebbero davanti a tutti costringe il governatore del Lazio a far buon viso a cattivo gioco. Perché Zingaretti lo sa perfettamente che quel sondaggio non è veritiero, che c'è l'aiutino di pagnoncelli per far risollevare Letta il partito in discesa continua, ai minimi storici. Allora dice, visto che sono tutti vicini, lo metto come primo partito, gli diamo un po' sta spinta a Letta. Questo lo ha capito benissimo Zingaretti, ma come si dice fa buon viso a cattivo gioco. E dice, sono contento, dice l'ex segretario del PD. E anche se fosse un'illusione ottica, cioè anche se fosse non vero, sono molto meglio queste illusioni rispetto a quelle che dicono l'opposto. Poi però Zingaretti dice, mi permetto di dire comunque che noi avevamo già avuto dei segnali anche alle ultime regionali, il PD era il primo partito. Ma davvero le cose stanno così? Beh, più o meno. Alle regionali del 2020 i Dem erano effettivamente di poco sopra alla Lega, ma alle regionali, attenzione, si parlava di alcune regioni. Ma va detto che si votava solo in sette regioni e che nel calco erano escluse le liste locali, come quella di Zai, ad esempio, che in Veneto ha sfiorato il 45% grazie ovviamente al sostegno degli elettori della Lega. Ma Zingaretti può consolarsi. Con lui all'Europe del 2019 il partito aveva preso il 22,74%. Colletta in testa al partito di Pagnoncelli è al 20,8%. Qualcuno starà rimpiangendo Zingaretti? Credo proprio di sì. Perlomeno Zingaretti non ha tirato fuori 25 priorità senza senso in questo momento come eletta. Perlomeno Zingaretti criticava Salvini a giorni alterni. Ogni tanto non si dava il compitino come eletta tutti i giorni di alzarsi e dire beh adesso cosa diciamo oggi contro Salvini perché se no l'elettorato non viene. Ecco, quindi molti staranno rimpiangendo. Il caro Nicola Zingaretti. E così intanto Sgarbi prende in giro anche Danilo Toninelli. Ma questo poi lo vediamo poi in un altro video. Mentre vediamo se trovo un'altra notizia interessante. Secondo me questa qua. Di Maio da Gospia dice ma che crede di essere Berlusconi? A cosa si è ridotto? Ma che cosa avrà detto? Giggino Di Maio il grande. Dopo le prime scuse fatte da Di Maio a Ugetti prosegue la conversione di Luigi Di Maio. Nell'ultima intervista sul quotidiano La Stampa, l'ultima tappa della sua conversione, il ministro degli esteri parla come un vecchio della DC. Insomma come un assoluto moderato, lontanissimi tempi di grillo, il canotto e quelle cose lì. Il Parlamento ad aprire come una scatoletta di tonno, tutte quelle cose che dicevano i grillini. Ora che lui è nella scatoletta di tonno non vuole più uscirne ovviamente. E così Di Maio vuol far credere che lui sia un politico alla vecchia maniera. Dice che finalmente con Conte il Movimento 5 Stelle è una forza responsabile e ragionevole. Parole che lasciano supporre che i grillini fino a oggi fossero l'esatto opposto. E Di Maio aggiunge rappresentiamo il ceto medio che paga le tasse. Aver acquisito una cultura di governo significa farsi carico delle responsabilità. E poi prosegue dicendo la parola mediazione era una brutta parola per noi, ora non più. Il giustizialismo. Beh se fossero confermate le cose che sto leggendo sui giornali anche il caso Eni deve spingerci a una riflessione. Dunque il ministro declassa di fatto Beppe Grillo, ideologo e animatore dei 5 Stelle, affermando che lui rappresenta la creatività. Insomma rappresenta il passato. D'Agospia dice, riprendendo l'intervista alla stampa, dice ma è Berlusconi, Forlani o Di Maio? Nell'intervista, Luigi Di Maio il Grande certifica la trasformazione del Movimento 5 Stelle in una DC a banda larga. Beh, voi avete visto che recentemente c'era la notizia Luigi Di Maio dovrebbe sposarsi con la fidanzata, però la fidanzata dice aspettiamo un attimo di vedere cosa succede in politica. Cosa vuol dire? Vuol dire che naturalmente Luigi Di Maio adesso tra essere parlamentare ed essere ministro porta a casa un qualcosa come un 20 mila euro, qualcosa di meno diciamo di 20 mila euro netti al mese. Quindi ci aggiriamo sui 240 mila euro netti all'anno. Di Maio, secondo le regole del Movimento 5 Stelle, la clause del secondo mandato, quando questo governo finisce anticipato alla scadenza, lui il giorno dopo ha reddito zero. Passerebbe da 20 mila a zero. Sapete cosa vuol dire passare da 20 mila al mese? Cioè 800 euro al giorno, tutti i giorni, compreso sabato e domenica, feste eccetera eccetera, a zero. Zero vuol dire portafoglio vuoto. Capite che anche chi si deve sposare dice ma caro Giggino e che facciamo poi? Che facciamo? Andiamo al semaforo a vendere le aranciate a pulire i vetri. Che facciamo? Quale può essere il futuro? Una coppia che si sposa con un'entrata solo di lui di 20 mila euro al mese e magari dopo due mesi l'entrata è zero. Dice Luigi come facciamo la spesa? C'è ancora dei soldi da parte ma quando finiscono? Non lo so. Ecco capite che per Di Maio il problema adesso è mostrarsi estremamente moderato in modo che magari possa finire magari in qualunque partito che lo accetti come una persona nuova. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.